Qual è l'andamento della povertà in provincia di Sondrio? La provincia di Sondrio non è tra le province più povere dell'Italia, però anche noi nelle nostre comunità incontriamo persone che hanno dei bisogni particolari. Nei nostri cinque centri di ascolto affluiscono sempre delle persone bisognose, anche se dobbiamo dire che in questi ultimi tempi il numero delle persone che affluiscono è un po' diminuito. Analisi a tutto tondo da parte di Don Augusto Bormolini, referente provinciale della Caritas rispetto alla povertà. Nel 2014 gli stranieri che facevano riferimento ai centri di ascolto della provincia di Sondrio erano 1.238, mentre gli italiani erano 858 per un totale di 2.096 persone bisognose. Negli ultimi anni il numero totale è calato, 1.279 gli afferenti ai servizi Caritas, con 671 stranieri, in particolare i marocchini, e 610 italiani. Il primo bisogno che emerge è un aiuto nel pacco viveri. Noi abbiamo un magazzino con dei viveri che prendiamo dal banco alimentare. Ci sono dei casi dove magari hanno bisogno di comprare delle medicine anche particolarmente costose, oppure la situazione dei trasporti, magari per i figli che vanno a scuola. Qualche volta interveniamo magari per non staccare una corrente elettrica, perché ne sono inarretrato delle bollette o del gas. Ecco, questi sono i bisogni più immediati. Poi ci sono bisogni anche relazionali, ecco, c'è anche il problema delle divisioni delle famiglie, c'è il problema del gioco d'azzardo che impoverisce molte famiglie e questo poi noi ne vediamo le conseguenze. Chi soffre oggi? Chi è il povero? Il povero si può definire in tanti modi. C'è il povero economico, che è quello che noi vediamo a prima vista e che emerge di più. Però c'è anche il povero di relazioni, c'è la persona sola, c'è l'anziano lasciato magari solo in casa, che non ha nessuno con cui collochiare per tanto tempo. Ecco, c'è chi ha rotto le relazioni in famiglia. Don, quale augurio fai a questa provincia per questo 2020? Di riuscire a creare nelle nostre comunità una mentalità più solidale, una mentalità più aperta, una mentalità dove per star bene io devono star bene anche gli altri.